Siamo qui con Simone Mattiolo, ci ha messo un po' in difficoltà, abbiamo dovuto alzare la telecamera anche con lui per i centiveti. Lo ripetiamo, una bella mattinata di sport, anche un bel messaggio da lanciare. È stata una bella mattinata appunto, peccato per la prima sconfitta, però ce la siamo giocata fino alla fine. Abbiamo preso i quali in contropiede, però ce la siamo giocata. Poi la seconda parte abbiamo fatto meglio, adesso vediamo un po' come finisce. Cioè è una bella finale in questo momento, sono un po' aiutati dal sole perché il terreno almeno nelle prime interviste ci hanno detto che era molto duro all'inizio. Sì, 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 era croccante. Era molto duro, vi ha aiutato anche un po' nel corso della partita proprio. Sì, sì, infatti poi nella seconda parte si incominciava a scivolare, però siamo riusciti subito all'inizio a mettere, diciamo, per la nostra partita. Bene così, un piccolo pronostico su questa finale. Speriamo negli arancioni, diciamolo. Grazie mille, gentilissimo. Grazie mille, grazie mille. Grazie.